Gentili telespettatori, buona giornata. Ellie Schlein, candidata alla segreteria del PD, dice o il PD cambia o è furnuta o è finita. Non ho nulla da perdere e per questo vincerò. Vincerò e vincerà. Io non lo so se ha delle possibilità di vincere perché si è sempre detto che questi congressi erano pilotati, le cose erano già decise, oggi sarà cambiato o no? Vabbè. Le primarie del PD, giudici permettendo perché tra di loro si sono imbrogliati con le tessere finte, no? Il giudice ha fermato il congresso per il momento, vedremo se si terranno il 26 di febbraio. Lei dice, la Schlein, Meloni sarà una delusione. Vabbè. Sarà una delusione? E vedremo se sarà una delusione. Ma puntare una campagna per diventare segretario del PD sul Meloni è cattiva non funziona. Non ha funzionato con Berlusconi, non ha funzionato con Salvini. Ora riproporre lo stesso tipo di politica, quella di dire che gli altri sono cattivi e noi siamo buoni e poi le proposte non ci sono, non mi sembra l'idea giusta per ricreare una scatola vuota che è diventata il PD. Alla prima cosa dice ma tu la Meloni è cattiva, farà male, è tutto sbagliato, insomma. La destra sarà l'ennesima delusione per chi l'ha votata. Vedremo, insomma, ci sono cinque anni, vedremo che cosa succederà. Sono divisi? Eh, sono divisi, però governano insieme. Voi siete divisi, vi siete presentati divisi, avete perso. Beh, lei dice sta a noi far esplodere le contraddizioni, cioè noi dobbiamo far esplodere un casino nel centro-destra. Visto che sono divisi, noi dobbiamo accentuare e provocare la loro litigata definitiva. Insomma, sono teorie. Più che portare delle soluzioni, più che proporre qualcosa per il futuro, per il paese, bisogna far litigare gli altri. Vabbè, ma intanto dicono, ma Ellie che nome è? E lei dice, chiede il giornalista, dice è un soprannome. Porto i nomi delle due nonne, purtroppo non le ho mai conosciute e non volevo per far torto a nessuna. La nonna fiorentina Elena e la nonna di origine lituana Etel, Ellie e Etel. Quindi il nome è vero o si chiama in un altro modo? Non ho mica capito. Dice un soprannome. Ma Schlein che cognome è? Dice, è un cognome ebraico, ne vado fiera, la versione originaria è Schleien, Schleien, semplificata quando il nonno emigrò a New York in cerca di fortuna, cambiò anche nome. Era Herschel, divenne Harry. Harry ti presento. E poi dice, partì da un villaggio vicino a Leopoli che oggi è in Ucraina con mio padre Melvin e ci siamo tornati nel 2018 con le foto e le lettere dei suoi zii, dei suoi cugini. Abbiamo forse ritrovato la via dove vivevano, ma non è rimasto niente dopo l'olocausto. Hanno cancellato ogni cosa. E cosa faceva il nonno in America? Dice, lavorò come sarto, poi aprì un chiosco di genere alimentari. Suo figlio mio padre conobbe mia madre Paola Taormina a un convegno sul federalismo. Poi ci sono diverse domande sulla vita privata, dove andava a scuola, chi è il nonno paterno, il primo ricordo pubblico. E arriviamo a cosa pensa davvero di Giorgia Meloni. Dice, sarà l'ennesima delusione per chi l'ha votata. La destra non è cresciuta. Ha sempre i suoi 12 milioni di elettori che si sono affidati prima a Berlusconi, poi a Salvini ora a Meloni. Nonostante sia divisi, sta a noi far esplodere quelle contraddizioni. Invece il PD i voti li perde. Dice, noi tutti abbiamo il dovere di costruire l'alternativa al governo più di destra della storia repubblicana, ma prima occorre che il PD risalga, cambiando tutti, volti, visioni, metodo. Non serve cambiare solo i nomi tenendosi il metodo sbagliato, basta con la cooptazione, apriamoci alle donne, ai giovani, alle energie migliori, scegliamo i nuovi dirigenti in base alla competenza e non alla fedeltà. Non fedelissimi, ma competenti. Questa era anche un po' l'idea della Meloni, della competenza, non dei fedelissimi, però oggi al governo lei è attorniata da fedelissimi. Abbiamo visto questo del mastro, del Donzelli, questa Montaruli, abbiamo visto un po' la russa, quindi anche il governo Meloni voleva la competenza e non i fedelissimi, invece ci sono i fedelissimi che poi magari sono anche competenti o magari anche no. E poi dice, chi vince tra di noi per la corsa alla segreteria saprà tenere insieme tutti e lavorare con chi ha perso, è quel che farò. Dice, sono assolutamente convinta di vincere, lo sento, avverto una mobilitazione incredibile, lei non ha idea di quanta gente voglia partecipare, giovani che non avevano mai fatto politica, anziani che mi dicono non prendevo la tessera da 30 anni, quindi non erano mai stati nel PD. Dice, ho sempre dialogato, molti si sono sentiti traditi dal PD che firmava i memorandum con la Libia, che sosteneva la guardia costiera Libica, ci siamo battuti insieme, poi parla dei migranti, parla poi dei diritti civili e poi dice, beh, proposta sul lavoro, limitare i contratti a termine, abolire gli stage gratuiti, salario minimo a 9,50 euro all'ora, come campi con 900 euro al mese, quindi salario minimo quasi a 10 euro. E poi dobbiamo potenziare l'ispettorato del lavoro che Melloni vorrebbe riportare dentro il ministero. Poi parla un po' di tante cose, comunque ha una sorta di programma embrionale. Poi dice, nel governo vedo un metodo squadrista, come quello di Del Mastro e Donzelli alla Camera, e vedo qualche nostalgia di troppo, compreso il simbolo della fiamma. e dice, non ho nulla da perdere in politica. Grazie a tutti e arrivederci a presto.